Buongiorno e buon lunedì. Allora, pollicione, se volete iscrivervi vi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commentano e sostengono questo canale. Prima di tutto un gigantesco grazie a Cugino Luke per i super grazie e oggi è la giornata dell'Adi. Oggi dovrà volerci la lavorazione dell'Adi, dell'Adi di metà mese. Il video sarà abbastanza curto. Lavorazioni che sono riservate ai nuovi percettori della misura e a chi aspetta i retrati. Dovrebbero essere nel pomeriggio e appena le vedete avvisate me, avvisate Elena, avvisate Radio Ucce, avvisate Mr. Lul che sono partite. Io uso sempre questo condizionale perché purtroppo a oggi non c'è stata una sola volta in cui l'Inps ha rispettato le date. Ha sempre fatto il cavolo che voleva e ve l'ho detto lo fa perché gli consentono di farlo. Lo fa perché non gliene frega niente. Le due misure sono un disastro, l'ho detto anche nel video della settimana scorsa, e non ci vogliono neanche mettere in mano. Nonostante l'Unione Europea abbia detto che queste misure sono sbagliate, alla calda rosta sono entrate da un orecchio e sono uscite dall'altro certi abisi. Perché? Perché l'ho detto non gli interessa sistemare il problema. Sono misure di facciata per poter dire che loro hanno fatto qualcosa di concreto, non hanno fatto niente. E tanto chi ci va di mezzo sono i poveri che, tra l'altro, una cosa che vorrei segnalare. Mi segnalano che i banchi alimentari, cioè le ONUS che distribuiscono alimenti, sono sotto stress. Sono sotto stress. Perché? Perché tantissima gente va, più gente di prima va alle ONUS per avere i pacchi alimentari e quindi c'è meno roba. Questo qui è il meccanismo perverso che ha avviato questo governo. Ricordatevi poi le lavorazioni ordinarie saranno comunque a fine mese e anche lì vedremo le date e soprattutto vedremo se poi non ci saranno anche lì delle ulteriori lavorazioni. Perché ve l'ho detto, qui è tutto fumoso. Non c'è chiarezza, non c'è una vera organizzazione, non c'è una vera preparazione. Tanto va tutto a carico vostro. Anche il discorso dei 120 giorni e dei 90 giorni, lo ribadisco qua, ne parlerò ancora nel video di mercoledì. Non prendete sotto gamba la cosa. Se gli assistenti sociali non vi chiamano, martellateli perché non è prudente aspettare l'ultimo minuto. Loro possono dire quello che non ha voglia, ma se lo sbagliano, cioè se non vi convocano entro i 120 giorni o non vi fanno le convocazioni successive ai 90 giorni, chi ci va di mezzo siete voi, non gli assistenti sociali. Siete voi che perdete la misura dell'ADI, non loro. Quindi stategli addosso. Chiudo su un'informazione che riguarda il vecchio assegno unico su RDC. Stanno arrivando delle comunicazioni dall'Inps che informano che l'assegno unico è decaduto. Non è decaduto l'assegno unico in sé, è decaduto l'assegno unico su RDC. Non c'è più, su RDC non si prende più e quindi, come vi avevo detto più di una volta, dovete aver fatto la domanda per poterlo prendere su IBAN o su domiciliazione postale. Ma quello dell'RDC si è estinto. Cosa che tra l'altro fa estinguere sostanzialmente l'uso della carta. La carta ormai, una volta che l'avete svuotata, mettetela in un cassetto e lasciatela lì riposare. Dategli degno riposo perché il suo lavoro l'ha fatto. Tra tanti problemi, tra tanti errori, con una misura che andava sicuramente migliorata e che un governo saggio avrebbe migliorato e non abolito, però l'RDC è stato utile, molto utile, mentre queste due misure qui servono a zero. Ed è per questo che insisto nel dire, ragazzi, si sta avvicinando giugno. Se non si dà un segnale, se non si dà una spinta forte a far capire che la situazione è grave, questi non gliene frega niente. A fronte del giudizio negativo dell'Europa, cosa ha risposto alla Calderone? Non gliene frega niente. La qualità di questo governo la vedete con l'ultima uscita di Lollobrigida sulla siccità al sud, ma vi sembra una roba normale da parte di un ministro. In questo governo sì, è la normalità, ed è quella la tragedia. La normalità degli incompetenti. La colpa è anche nostra, noi di sinistra, noi che combattiamo queste battaglie. Perché di queste battaglie in realtà al ministro infrega poco. Noi ci teniamo gli orsetti lavatori che strappallano in macchina, facendo delle lavi che sembrava di vedere Rosario Riccardo, e intanto perdiamo di vista l'obiettivo vero. Cioè parlare e difendere i diritti degli ultimi. Ma i diritti degli ultimi si difendono con inchieste, denunciando il re nudo. Come vi ho detto la settimana scorsa, ormai la stampa, il re lo sta vestendo, lo tiene coperto, lo protegge. L'atteggiamento della stampa mainstream è molto simile a quella dei tempi del mascellone. È una cosa tragica, perché vuol dire che si è perso il senso e l'importanza della denuncia. E allora facciamolo noi. Lo facciamo noi nel nostro piccolo. Penalizzati, perché lo dico, siamo penalizzati da questo. Me ne rendo conto fattualmente. Penalizzati perché non diventiamo molto visibili. Penalizzati perché non veniamo diffusi, non veniamo suggeriti. Ci sta. Le regole sono quelle. Ma questo non mi impedirà comunque di continuare a dire che la situazione in Italia dei poveri è disastrosa. Non è accettabile che un paese teoricamente tra i ricchi del mondo ha un tasso di povertà del 10% della popolazione. Un premier serio di queste cose dovrebbe occuparsi. Un'opposizione serio su queste cose dovrebbe fare battaglia. E invece su cosa facciamo battaglia, su quale consonante mettere alla fine di una parola. Ciao a tutti.